Attenzione per il rischio della vaccinazione sperimentale, l'inutilità del vaccino, il vaccino che altera il genoma, sono tutte cose che la scienza ovviamente non evidenzia e ci sono ricerche in campo, perché non è che questa tipologia di vaccini è nata in fretta e furia, ma sono dieci anni che si lavora su questa metodologia e si conosce bene tutto il meccanismo d'azione. Passa in rassegna gli argomenti principali del popolo Novax, Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, per ribadire che la vaccinazione invece è l'unica via d'uscita dal tunnel della pandemia. Vaccinazione tutt'altro che sperimentale e accelerata, dice sempre Pregliasco, grazie a una forte iniezione di liquidità. È stato grazie a una grande quantità di denaro che è stata messa in campo, ma guarda caso tra l'altro da due esempi negativi dal punto di vista delle attenzioni alla prevenzione. Mi riferisco a Trump e a Boris Johnson, che pur tralasciando le attenzioni a mascherine e quant'altro, hanno comunque capito che c'era bisogno dei vaccini, hanno investito miliardi e hanno reso possibile quindi l'industrializzazione. Ma gli argomenti a favore del vaccino sono anche altri e riguardano i costi per la collettività nei giorni in cui la stessa regione del Veneto ha introdotto i tamponi a pagamento per motivi personali di viaggio e di lavoro. Il test costa 15 euro di materiale proprio in laboratorio, soprattutto il test molecolare. Rifarlo ogni 24-48 ore è impossibile dal punto di vista operativo e non avrebbe senso e con costi veramente insostenibili per lo Stato. Mentre invece la vaccinazione ovviamente costa meno. L'acquisto, l'esecuzione del vaccino, eventuali controlli. Questione di costi e di prospettive anche nel medio termine. Io penso che la pandemia andrà avanti con tante onde. Forse quella attuale sta arrivando un po' al picco, ma il settembre-ottobre ovviamente le scuole, le condizioni meteo, ci riproporranno un'altra onda. Da un po' come un sasso nello stagno che arriverà solo a distanza a ridursi, ma non ad azzerarsi. Speriamo di riuscire a trovare quella chiave di lettura e di evidenza che la scienza ci dà, ma non sempre condivisa. Speriamo di riuscire a trovare quella chiave di lettura. Speriamo di riuscire a trovare quella chiave di lettura.